Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti in un nuovo video di Pokémon GO E oggi come a titolo andiamo a parlare della Coppa Psico, visto che è appena uscita ci sono un tot di Pokémon Penso l'abbiate già magari provata, ma andiamo a parlare un po' dei Pokémon migliori, dei team che io magari vi posso consigliare per la Coppa Prima di tutto ti ricordo che abbiamo un gruppo Telegram con più di 400 persone che fanno ride insieme, ti consigliano l'ottego per flexare i tuoi shiny e trovare nuovi amici E tutto questo lo puoi fare anche in maniera più organizzata sul nostro Discord Dove abbiamo canali appositi per parlare, un canale dove premettere il tuo codice amicizia, anche io aggiungo gente da lì Quindi insomma, fatti un giro sul Discord perché ci sono anche un bot di bot dove giocare molto interessanti Ho anche dei canali Instagram e TikTok dove porto aggiornamenti più veloci che nei video, ovviamente contenuti che ti fanno ridere E ovviamente sono in like quasi tutte le sere sul canale Viola, quindi vienimi a trovare se vuoi farmi domande subito Vecci, ci facciamo una chiacchierata serale Ma detto questo, andiamo subito a parlare della Coppa Psico Visto che immagina sei qui per questo, andiamo a vedere subito i Pokémon migliori Ovviamente ho utilizzato anche la app PvPoke, quindi vatti qua sotto il link all'app Ma andiamo a vedere un attimo di situazione, quelli che io consiglio di utilizzare, un po' di rimedi nel caso tu non ce li abbia Ovviamente mettiamo in ranking top Victini, perché? Perché ovviamente essendo uno Psico Fuoco, avendo delle mosse Fuoco, dà fastidio anche agli acciaio che sono all'interno della Coppa Entrando in super efficacia, dato che gli acciaio Psico gli entrino molto efficaci, quindi è una valida opzione Nel caso non hai Victini, però io ti posso consigliare di utilizzare Hypno, che può accedere alla mossa Fuoco Pugno Quindi secondo me è molto interessante come mossa In più anche Palla Ombra che entra in super efficacia, tutti i Pokémon di tipo Psico Delfox, un altro Pokémon Fuoco Psico, che potrebbe considerarsi interessante Peccato non abbia ancora la mossa incendio Un altro super Pokémon è sicuramente Bronzong, rago ovviamente Psico Acciaio, quindi molto buoni, inoltre ha anche un moveset che può vantare discrete situazioni Quindi io lo otterrei d'occhio perché sarà un buon tank della situazione Nel caso tu non lo abbia e abbia buildato invece Metagross, anche lui potrebbe essere valido anche se un po' meno Ma divertente da giocare, solitamente giocati in Master, quindi non si vedrebbe tanto Ma utile Un altro è ovviamente Girachi, Psico Acciaio, un altro tankino raga Se lo volete usare si usa in Mega e si usa anche qui Altri tier molto buoni è Malamar, che c'è stato l'evento per catturarlo Quindi io penso che ne vedremo tanti, essendo Psico Buio farà i buchi in questa Coppa E ne vedremo tanti, quindi pensate a come counterarlo ragazzi E il suo counter di eccellenza sarà sicuramente Gardevoir E avendo la mossa Fashion rientra super efficace può accedere anche alla mossa Palla Ombra Quindi direi che in questo caso è molto buono, visto che più di poco lo consiglia anche Ombra Però questo valutate voi come utilizzarlo Poi Claydol, un altro Psico interessante essendo Psico Terra Anche lui entra super efficace sui Pokémon di tipo acciaio e anche sui Pokémon di tipo fuoco Quindi Claydol qui secondo me farà veramente scintille per dire perché lancia Terra e Sassi e Fango Addosso a questi Pokémon di tipo fuoco che vogliono buttarlo giù Abbiamo poi Rapidash di Galar che con il nuovo moveset potrebbe dire la sua O comunque dirà la sua comunque, essendo uno Psico Folletto potrebbe essere alternato a Gardevoir nel caso non l'abbiate Poi possiamo citare anche tra i top tier a mio parere Slowking di Galar che non è molto utilizzato in nessun'altra coppa Ma qui potrebbe dire la sua a quanto pare E Raichu ovviamente di Alola Ok ora ragazzi parliamo di tutti gli altri Pokémon che io vi consiglio ma che a parte questi insomma non sono super top Anche Executor io lo consiglio Non mega top però tra tutti quegli altri che andremo a consigliare è quello che metto nella sticella più in alto Poi abbiamo Wobbuffet che ci sta dentro Lunaton o Solrock Raga so che qualcuno li ha catturati mi piaceva buttare un EP con uno di questi Quindi nel caso lo bigliate fatemelo sapere Sono divertenti I rocce quindi entrano super efficace su fuoco Quindi valutate se volete utilizzarli Ho visto che c'è anche Girafrig o Ranguru come normale Psico consigliate Girafrig molto utilizzato adesso all'interno dell'Hotgo Quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti su di lui Poi visto che ha consigliato anche Mediciam che io sconsiglio sinceramente di utilizzare Perché secondo me gli entrano tutti super efficaci con la mossa Psico Quindi sarà tosta per lui però Noi vediamo anche cosa succede Sono sarei contento di ricredermi Kadabra che non è mai stato visto in nessuna Coppa Quindi se lo volete utilizzare utilizzate E ora parliamo degli altri Legend che appunto non abbiamo ancora citato Abbiamo Cresselia, Lugia, Latios e Latias Celebi, Deoxys difesa E l'ultimo raga che appunto questo qui è ancora di più di Lunaton Se lo usate Articuno di Galar Mandatemi la clip perché sarebbe veramente figo vederlo in azione Andiamo a po' a spoilerarvi un po' di Team Raga Oggi video molto veloce come avete visto Ma secondo me è molto utile Team 1 Victini Gardevoir E Malamar Ovviamente abbiamo i top TRS Ottimi player Possono chiudere tutto Potete anche pensare di mettere al posto di Gardevoir Rapidash nel caso non ce l'abbiate E io proverai al posto di Victini un Hypno Vedete voi fatemi sapere anche cosa ne pensate nei commenti Questa è stata una change al volo nel video perché non me l'era segnato Poi abbiamo Claydol Rapidash di Galar E Gardevoir Quindi con doppio folletto nel back Che andrà a triturare tutta la lane successiva Creselia Bronzong E Slowking di Galar Anche questo qui interessante Raichu Gardevoir E di nuovo Bronzong di Galar Ma nel caso abbiate Lugia Potete pensare di utilizzare anche lui Io ragazzi spero che il video vi sia stato conciso Utile E figo Spero ovviamente di sentire la vostra nei commenti Perché la community sta crescendo E possiamo aiutarci nei commenti Quindi venite Altrimenti passate sui canali Discord o Telegram Perché siamo sempre qua ad aspettarvi Tutti i link sono in bio Raga Sta arrivando la bomba della settimana Domenica Quindi collegatevi alle 9 in live Yo